Mafia si pente Vito Bucceri, 44 anni, ritenuto il capo mafia di Menfie, che sta raccontando ai magistrati la sua appartenenza a Cosa Nostra e i rapporti col capomannamento di Sambuca, Leo Sutera, e con il boss di Santa Margherita, Pietro Campo. Gli abusi della 104, ieri al centro dell'arena, la trasmissione domenicale di Rai 1 condotta da Massimo Giletti, tra le testimonianze anche quella del saccense Dorenzo Navarra, promotore dell'associazione Insegnanti in Movimento. 300 istanze per 100 loculi cimiteriali, quelli messi a bando recentemente, oggi la scadenza dell'avviso. A fronte delle forti richieste, il comune punta ad ampliare il cimitero realizzando 50 nuove cappelle e 500 loculi. Si chiama Sciacca Pedala, la campagna online, per salvare l'ex tracciato ferroviario e provare a riproporre la riconversione della ferrovia in pista ciclabile. Tra i promotori della campagna, l'ingegnere saccense Mario Di Giovanna. Carnevale 2017, una sola richiesta in più rispetto al numero dei carri che quest'anno potranno partecipare alla manifestazione. Alla scadenza del bando sono sette le istanze presentate dalle varie associazioni, una per il Peppe Nappa. Sport, calcio, vince ancora lo Sciacca di Mario Putaggio che ha espugnato il campo di gioco del Villafranca Sicula. Formazione saccense ancora seconda in classifica dietro la nuova sportiva del Golfo. In promozione, Menfi batte Ribera 3-0. Un cordiale saluto ben trovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. ha deciso di collaborare con la giustizia il menfitano Vito Bucceri, 44 anni, bracciante agricolo, ritenuto dagli inquirenti capomafia di Menfi. L'uomo coinvolto nelle operazioni Scacco Matto e Opunzia sta raccontando gli intrecci del mandamento mafioso della Valle del Belice, svelando i segreti più inconfessabili. Ci racconta tutto in questo servizio Massimo D'Antoni. Da qualche mese lui e la sua famiglia si trovano in una località segreta, protette dall'antimafia. Vito Bucceri, 44 anni, bracciante agricolo, ritenuto dagli inquirenti il capomafia di Menfi, ha deciso di collaborare con la giustizia e nel farlo ha raccontato ai magistrati di essere stato cooptato nella cosca belicina dal sambucese Leo Sutera, detto il professore. Già coinvolto nell'operazione Scacco Matto del 2008, vicenda che ha visto la Cassazione annullare con rinvio la sentenza di condanna a lui inflitta, l'ultima volta di cui si è fatto il nome di Bucceri è stato la scorsa estate, quando lui ed altre sette persone finirono in carcere nell'ambito dell'operazione dei carabinieri di Sciacca denominato Opunzia, nome scientifico del fico d'India, pianta che riesce a rigenerarsi malgrado le difficoltà ambientali. Arresti poi annullati dal Tribunale del Riesame, ma solo per un vizio di forma, sullo sfondo di quell'operazione e il tentativo di ricostituire la famiglia mafiosa di Sciacca e Menfi. È stato in quel periodo che Vito Bucceri ha maturato la decisione di parlare e sono già una mezza dozzina verbali che il Menfitano ha riempito, 200 le pagine contenenti le sue rivelazioni già acquisite agli atti del processo iniziato oggi al Tribunale di Agrigento, scaturito da un'altra operazione, quella del 2015, denominata Icaro, inchiesta che fece finire nel mirino la cupola provinciale con accuse varie dall'associazione mafiosa e danneggiamenti, dalle estorsioni e al riciclaggio. Tra gli indagati, soggetti di Ribera, Montevago, Cattolica Eraclea, Cianciana, Santa Margherita, Favara, Agrigento, Montallegro, tra di loro anche il margheritese Pietro Campo, Bucceri ha dichiarato che quando Leo Sutera era in carcere, le decisioni riguardanti l'organizzazione del mandamento di Sambuca le prendeva lui, ossia quel Pietro Campo, tornato in carcere nei mesi scorsi. Vito Bucceri dunque ha saltato il fosso, come si dice, è un pentito a tutti gli effetti che ha deciso di rivelare i segreti dell'organizzazione mafiosa, ha dunque parlato del tentativo di avviare nel Bellici un'attività di videopoker che sostenesse la famiglia mafiosa, così come ha parlato anche delle intimidazioni alle imprese che si giudicavano gli appalti sul territorio. Molte ditte sapevano di dover pagare, dunque erano messe a posto, altre invece avevano bisogno di qualche segnale per capire di doverlo fare ed era Vito Bucceri in persona recarsi nei cantieri per concordare con gli imprenditori l'ammontare dell'estorsione. E, ha rivelato il menfitano, le ditte si adeguavano pagando tra il 2 e il 2,5 percentuale determinata sull'importo del lavoro. Soldi che poi Bucceri, stando sempre a quanto da lui riferito, consegnava personalmente a Leo Sutera. Recentemente la diminuzione della realizzazione di nuove opere sul territorio ha cominciato a preoccupare il mandamento, appunto da ipotizzare un ripensamento dell'organizzazione del racket. Il pentimento di Vito Bucceri potrebbe dunque far tremare diverse persone oltre alle otto finite in carcere e poi scarcerate nell'ambito dell'operazione Opunzia ce ne sarebbero almeno un'altra ventina, semplicemente indagate, tra cui anche qualche donna. E comunque i verbali contenenti le dichiarazioni del neocolaboratore di giustizia contengono molte parti, tuttora secretate. Sono numerosi infatti gli omississi che si incontrano e che lasciano immaginare che il menfitano abbia ancora molte altre cose da raccontare ai magistrati della direzione distrettuale antimafia. Lesioni aggravate. Questa l'accusa nei confronti di quattro saccensi che qualche mese fa avrebbero aggredito un uomo di 70 anni per vicende legate alla restituzione di una somma di denaro prestata. L'anziano sarebbe stato picchiato e costretto a far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso del Giovanni Paolo II. Dopo la denuncia i quattro sono stati iscritti nel registro degli indagati della locale Procura della Repubblica per lesioni aggravate. Sono circa 300 le richieste pervenute al Comune di Sciacca dopo che è scaduto oggi il bando finalizzato alla concessione di 100 loculi cimiteriali che saranno realizzati nei prossimi mesi con il sistema modulare prefabbricato. A fronte delle forti richieste che arrivano dalla cittadinanza il Comune di Sciacca ha effettuato una ricognizione verificando la disponibilità di una cinquantina di lotti per la realizzazione di cappelle e di altre aree dove potrebbero essere realizzati altri 500 loculi, 150 edicole e una settantina di sarcofagi. I particolari nel servizio di Maria Genuarti. 300 richieste per 100 loculi a disposizione. Alla scadenza del bando pubblicato dal Comune di Sciacca il numero di stanze pervenute dimostra ancora una volta il forte interesse della cittadinanza anche a fronte delle oggettive difficoltà che negli anni si sono registrate nel dare degna sepoltura ai propri cari. Di loculi con sistema modulare prefabbricato nei prossimi mesi ne saranno realizzati 200 ma soltanto la metà saranno assegnati ai richiedenti. La concessione sarà novantennale e prevede l'assegnazione di non più di due loculi per ogni richiedente fatta eccezione per i nuclei familiari con presenza di un soggetto che ha gravi patologie. Il costo varia a seconda delle file 950 euro per la quinta 1.150 per la quarta 2.250 euro per la terza e la seconda fino ad arrivare a 2.450 euro per la prima fila ovviamente partendo dal basso. Gli uffici contano di completare l'esame delle stanze entro una ventina di giorni per poter pubblicare la graduatoria provvisoria e successivamente effettuare le verifiche dei requisiti che erano richiesti nel bando per stilare così la graduatoria definitiva. La realizzazione dei 200 loculi con il sistema prefabbricato dovrebbe avere tempi celeri e prevede un investimento già disponibile di 283.000 euro. La buona notizia è che si procederà su questa strada avendo verificato al termine di una ricognizione delle aree ancora disponibili al cimitero di Sciacca la possibilità di realizzarne ulteriori 500. Non solo c'è la possibilità di realizzare anche 150 nuove edicole e una settantina di sarcofagi. Per i loculi ovviamente il comune di Sciacca procederà direttamente alla loro realizzazione trattenendone una parte mettendo il resto a disposizione della cittadinanza attraverso un bando. Si sta verificando se è fattibile procedere con questo sistema anche per edicole e sarcofagi mentre per le cappelle si procederà sicuramente a mettere a bando le aree ancora disponibili. In questo caso sono una cinquantina i lotti che potrebbero essere ceduti ai richiedenti sempre tramite bando. La capienza del cimitero di Sciacca si esorisce qui e quindi cedute utilizzate dal comune stesso queste aree il problema si riproporrà se nel frattempo non si procederà ad un ampliamento. Il progetto è al vaglio dell'assessorato regionale al territorio ambiente commenta oggi l'assessore Caracappa e prevede un ampliamento del cimitero di Sciacca verso la parte alta di 20.000 metri quadrati. Intanto giusto oggi alla nostra redazione è stata posta l'esigenza di ripristinare come avveniva in passato la possibilità per anziani o persone che hanno grave difficoltà di ambulare di far visita ai propri defunti accedendo all'area interna del cimitero con le proprie auto in orari e giorni stabiliti. Non è più possibile ormai da diversi mesi per motivi di sicurezza è stato dichiarato ma le lamentele continuano ad arrivare alla nostra redazione anche oggi da parte di una saccenza che ha posto all'amministrazione comunale l'opportunità in alternativa che sia il comune stesso a mettere a disposizione un'autovettura e un autista stabilendo orari e giorno di accesso al cimitero come avvenuto per i giorni antecedenti la festività del 1 e 2 novembre. Stiamo valutando tale ipotesi assieme a quella di dotare il cimitero di una macchina elettrica come avviene in altre città per favorire l'accesso alle cappelle e loculi dei propri defunti a quanti hanno comunque gravi difficoltà a deambulare questo è il commento dell'assessore Caracappa Si chiama Sciacca Pedala la campagna online per salvare l'ex tracciato ferroviario e provare a riproporre la riconversione della ferrovia in pista ciclabile sfruttando le misure previste dalla nuova programmazione comunitaria si intensificano dunque le iniziative per impedire la vendita da parte di fair servizi di quattro lotti della ex linea ferroviaria tra i promotori di questa campagna l'ingegnere Saccenze Mario Di Giovanna ne parliamo in questo servizio parte una raccolta di scatti fotografici per tutelare l'ex tracciato ferroviario con la speranza che diventi pista ciclabile si chiama Sciacca Pedala la campagna online nata per salvare la linea ferroviaria dal tentativo di fair servizi che come è noto ha messo in vendita quattro lotti di ferrovia tra i promotori della campagna l'ingegnere Saccenze Mario Di Giovanna si chiama Sciacca Pedala c'è anche l'hashtag per comunicare meglio sia su facebook che su twitter nasce dall'iniziativa di un gruppo di amici in particolare mia e di Mario Tulone nasce dopo la notizia che è stata data grazie all'associazione Altasciacca e all'associazione Sicilia in treno che ben quattro lotti molto estesi della nostra ferrovia saranno venduti a privati con un bando pubblico che ci sarà fra pochissimo tempo il 2 di dicembre con questa iniziativa noi vogliamo sensibilizzare sia la nostra cittadinanza e che chi può intervenire cioè la nostra amministrazione i nostri rappresentanti i nostri rappresentanti politici e perché blocchino questi bandi di vendita questo perché perché intanto la ex ferrovia è un bene pubblico ed è un peccato mortale che venga spezzettato e dato ai privati perché con questo tracciato ferroviario noi potremmo fare tantissime cose da un sogno che hanno in tanti riattivare la linea attraverso un trenino turistico cosa che già stanno facendo ad aggrigento con un successo clamoroso ci sono tour operator della Germania che hanno prenotato decine e decine di corse oppure con il sogno che coltiviamo da tanti anni qui a Sciacca di convertire questo tracciato in quella che viene chiamata Greenway una via verde una via verde significa poter andare in bicicletta a cavallo a fare jogging con un tracciato che è meraviglioso perché attraversa le spiagge e passa vicino ai centri storici alle entiche terme ai grossi alberghi Roccoforte Sitas e se noi riuscissimo a realizzare questa Greenway cosa di cui siamo molto vicini perché c'è un progetto che è stato donato dall'associazione dall'altra Sciacca e da Italia Nostra all'amministrazione comunale che è immediatamente eseguibile e perché ci sono una serie di bandi dell'Unione Europea che usciranno a brevissimo che permetteranno a zero spese per la nostra città di realizzare questo sogno La vendita dei quattro lotti di ex linea ferroviaria non significherebbe dire definitivamente addio al sogno di uno sviluppo sostenibile del territorio osserva l'ingegnere di Giovanna ma è chiaro che complicherebbe tutto Tutto diventerebbe terribilmente più difficile e intanto ci potrebbe essere la possibilità da parte dell'amministrazione comunale di esercitare il diritto di prelazione Il prezzo non dovrebbe essere elevatissimo intorno ai 90 100 100 mila euro quindi una città come Sciacca potrebbe anche permettersi di esercitare questo diritto di prelazione e se tutto dovesse andare a rotoli c'è pur sempre la possibilità dell'esproprio per pubblico di rita Non dimentichiamo che nel nostro approvando piano regolatore generale proprio l'intera linea viene messa come destinazione urbanistica strada turistica pista ciclabile e quindi anche se i privati dovessero comprare queste aree non potrebbero farci nulla neanche un giardino perché dovrebbe a proprio quella destinazione ma noi non vorremmo che si arrivasse a tanto noi vorremmo che un'azione politica importante coadiuvata dalla città che è quello che stiamo tentando di fare con Sciacca Pedala e riesca a fermare questa vendita Parliamo della campagna online i cittadini interessati a sostenere la vostra causa cosa dovranno fare? Per ora stiamo raccogliendo le adesioni quindi c'è un gruppo facebook che si chiama Sciacca Pedala a cui invito tutti sia i singoli cittadini che le associazioni ad aderire c'è la possibilità di manifestare il nostro affetto per questa linea e per questa campagna attraverso l'hashtag Sciacca Pedala basta una foto con o il loghino della manifestazione o sarebbe una cosa carina farsi una foto in un qualche punto carino della ferrovia magari con la bicicletta o anche no una volta raccolte le adesioni faremo sicuramente un'assemblea per decidere delle iniziative più concrete sul territorio tra i rifiuti abbandonati per strada in pieno centro storico a Sciacca è possibile trovare anche delle televisioni la foto che state vedendo è stata scattata in corso Vittorio Emanuele finalmente a Sciacca la videosorveglianza ironizza chi ha scattato e pubblicato su facebook lo scatto riscuotendo diversi commenti e condivisioni si sollecita la rimozione e lo smaltimento del rifiuto speciale dopo il consigliere comunale Simone Di Paola oggi è Giuseppe Ambrogio ad intervenire sul parco giochi del museo del carnevale oltre a ricordare come l'aria non sia adeguatamente illuminata a causa anche del fatto che alcune lampade sono fulminate è sugli orari di apertura che Ambrogio si sofferma ritenendo inconcepibile che il giardino sia chiuso il lunedì e che nelle ore pomeridiane rimanga aperto solo per tre ore anche il più piccolo intervento diventa difficile in questa città osserva Ambrogio e alla fine ci si ritrova a parlare a dover chiedere sempre le stesse cose carnevale di Sciacca 2017 una sola richiesta in più rispetto al numero dei carri allegorici che quest'anno potranno partecipare alla manifestazione alla scadenza oggi del bando sono sette infatti le istanze presentate dalle associazioni mentre per il Peppe Nappa è arrivata una sola offerta ne parliamo in questo servizio bando scadute sono sette le istanze pervenute dalle associazioni culturali per il carnevale del 2017 a Sciacca sei sono i carri che possono partecipare alla manifestazione così come precedentemente previsto dall'amministrazione per cui da domani mattina la commissione inizierà a valutare tutte le richieste e decidere quale associazione dovrà essere esclusa nessun problema per la realizzazione del carro del Peppe Nappa visto che è pervenuta una sola richiesta espletata la fase della verifica dei requisiti previsti nel bando le sei associazioni ammesse potranno ufficialmente mettersi al lavoro per la realizzazione dei carri che animeranno la prossima edizione della festa che anche quest'anno interesserà due fine settimana la novità sta nell'anticipazione il carnevale di Sciacca si svolgerà il 18-19 febbraio e poi nei quattro giorni da calendario dal 25 al 28 febbraio niente festeggiamenti dunque nel periodo della quaresima e almeno questa polemica riusciremo ad evitarla altra novità della prossima edizione della festa riguarda il sistema di valutazione delle opere in cartapesta sia per la composizione della giuria sia per il giudizio stesso dei carri allegorici in concorso che saranno sottoposti ad una doppia valutazione il tentativo è quello di provare a scongiurare ciò che puntualmente è successo in passato la circostanza di conoscere i vincitori del carnevale nell'imminenza della conclusione della festa e comunque ancor prima della cerimonia di apertura delle buste contenenti il risponso della giuria anche lo scorso anno l'effetto sorpresa è andato a farsi benedire visto che erano ben noti giorni e giorni prima della proclamazione i vincitori e persino i punteggio ottenuti dalle associazioni per le varie componenti del carro nel 2017 ci sarà un nuovo sistema di valutazione ma è stato deciso che la stessa apertura delle buste avverrà il sabato successivo alla conclusione della festa significa quattro giorni dopo il rovo del Peppe Nappa che come sempre chiuderà i festeggiamenti martedì 28 febbraio la terra continua a tremare nel centro Italia è chiaramente forte la preoccupazione un po' ovunque anche nelle regioni non colpite dal sisma è legata ai recenti eventi calamitosi l'iniziativa che a Castelvetrano ha deciso di assumere il sindaco Felice Errante l'istituzione di una task force per controllare tutte le scuole cittadine ne parliamo in questo servizio si insedierà giovedì prossimo 10 novembre a Castelvetrano una task force tecnica voluta dal sindaco Felice Errante dall'assessore alla pubblica istruzione Giussi Etiopia il gruppo di lavoro che si avvarrà della collaborazione di un professionista il professore Panzeca ordinario di scienza delle costruzioni presso la facoltà di architettura dell'università di Palermo avrà il compito di effettuare un monitoraggio completo di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado al fine di verificare le condizioni strutturali degli edifici allo stato attuale non esistono elementi che possano farci dubitare sulla staticità dei nostri istituti dichiara al nostro telegiornale il sindaco Errante ma alla luce dei recenti eventi calamitosi che hanno investito l'Italia centrale riteniamo sia opportuno effettuare ulteriori controlli in tutti gli edifici scolastici per tranquillizzare la popolazione chiaramente tutto muove da questa circostanza che sta drammaticamente colpendo il centro Italia e quindi le scuole di quella parte del territorio nazionale nella mia città le scuole elementari e medie non presentano al momento problematiche in ordine alla staticità e all'agibilità delle stesse quindi da questo punto di vista non vorrei creare nessuna forma di allarmismo tuttavia è una questione di scrupolo e di coscienza posto che i nostri figli ogni mattina li mandiamo a scuola e li teniamo lì per almeno 5 ore ogni giorno ritengo che l'attenzione debba essere massima ho ottenuto la disponibilità del professore Teotisto Panzeca che è un luminare nel settore con il quale può meglio di altri darci eventuali suggerimenti sicché già giovedì mattina insediamo questa commissione questa task force perché si possa procedere ad un monitoraggio puntuale di tutti gli edifici scolastici della mia città da anni ormai gli enti locali vivono una condizione di estrema sofferenza dal punto di vista economico finanziario ma pur in presenza di mille difficoltà siamo riusciti ad assicurare tutti gli interventi necessari per le nostre scuole aggiunge il sindaco errante gli enti locali vivono una situazione drammatica la situazione delle scuole cittadine per fortuna grazie a tutta una serie di investimenti ma soprattutto all'attenzione che abbiamo riservato agli edifici scolastici sin dal mio insediamento e quindi un lavoro che va avanti dal 2012 abbiamo in qualche maniera lo stato dell'arte in condizioni ottimali tuttavia come dire certezza non ce n'è il terremoto può colpire in qualsiasi momento può colpire speriamo mai anche le nostre comunità e comunque edifici scolastici anche se ben manutenuti e correttamente controllati dall'ufficio tecnico del mio comune in maniera puntuale possono nascondere eventuali insidie questo tentiamo di scongiurare o quantomeno tentiamo di accertare per poter eventualmente riuscire a trovare risorse per intervenire Sindaco tecnicamente in che modo opererà questa task force che l'amministrazione ha voluto istituire? la task force sarà preceduta dal Sindaco dall'assessore al ramo e poi i tecnici fisicamente si recheranno in ogni edificio scolastico a fare dei sopralluoghi in tutte le parti dell'edificio quindi partendo dalle singole classi agli spazi comuni penso alle palestre piuttosto che ai corridoi e a tutte quelle parti che possono essere oggetto di passaggio e comunque di presenza di bambini durante l'orario scolastico faranno loro delle indagini di ordine tecnico sì da scongiurare eventuali problematiche di ordine statico dell'edificio attivato anche quest'anno a Sciacca il servizio di trasporto extraurbano per gli studenti che abitano in diverse contrade cittadine a darne notizie all'assessore ai servizi scolastici Maria Antonietta Testone usufruiranno del servizio i ragazzi residenti nelle contrade Scunchi Pani Piana Superiore Piana Inferiore San Bartolo Ragana Raganella Bordea Cinquegrana Quasarano Tabasi e Guardabasso l'assessore Testone fa sapere inoltre che è stata data a continuità anche al servizio di assistenza igienico-sanitaria rivolto agli studenti diversamente abili il distretto sociosanitario indetto una conferenza cittadina per presentare le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale programmate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la conferenza si svolgerà mercoledì 9 novembre alle 9.30 nella sala Blasco del comune di Sciacca è aperta a tutti i cittadini ai rappresentanti delle istituzioni delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali operanti nel terzo settore e dei sindacati referendum costituzionale del 4 dicembre prossimo a Ribera presso l'associazione Amici della Terza Età si terrà un incontro pubblico per dibattere sulla riforma si confronteranno sull'argomento l'avvocato Francesco Montalbano per il sì e l'avvocato Giovanni Dazzo del comitato per il no proseguirà fino a sabato 12 novembre la raccolta di fondi in favore delle popolazioni terremotate del centro Italia promossa dal Lions Club Sciacca Ost che nei giorni scorsi ha distribuito 30 salvadanai ad altrettanti esercizi commerciali della città salvadanai che saranno ritirati sabato 12 novembre il Lions Club Sciacca Ost presieduto da Francesco Grisafi trasferirà poi l'importo raccolto alle popolazioni terremotate mediante bonifico su un conto corrente dedicato alla raccolta di questi fondi da parte del governatore del distretto Lions Sicilia ultima pausa pubblicitaria mercatini di Natale in piazza Angelo Scandaliato a Sciacca c'è tempo fino alle ore 12 del 15 novembre per presentare le adesioni di partecipazione l'assessore Salvatore Monte rinnova l'invito ad obbisti artigiani e artisti a partecipare all'iniziativa contattando l'assessorato alle tradizioni locali e allo spettacolo musica riscosso un buon successo sabato scorso al circolo di cultura il concerto Mali Blues Quintet capitanato dall'artista maliano Yusuf Karembè parigino di adozione ma innamorato della Sicilia che ha portato a Sciacca la musica africana tanti soci del circolo e i curiosi che hanno preso parte alla serata musicale quello di sabato scorso è stato il primo degli appuntamenti organizzati dal circolo di cultura che fino al 7 maggio si susseguiranno nei locali di Corso Vittorio Emanuele Al Via le attività a sostegno dei ragazzi dell'associazione Crescere Insieme ogni lunedì dalle 18 alle 20 alla multisala Badia Grande grazie alla collaborazione avviata con il patron della Vertigo Sino Caracappa i giovani potranno seguire uno dei film in programmazione dal martedì al venerdì dalle 16 alle 18 invece in programma attività e laboratori all'interno dei locali dell'associazione in Via Nenni alla Perriera Crescere Insieme che opera sciacca ormai da 4 anni invita chi volesse intraprendere attività di volontariato a rivolgersi alla sede dell'associazione Montevago cerimonia di commemorazione dell'eccidio dei militari italiani avvenuto a Nassiria nel 2003 sabato prossimo 12 novembre nella piazza dedicata per l'appunto ai caduti di Nassiria alle 10 sarà deposta una ghirlanda di alloro alla presenza delle autorità civili militari e religiose del comune Belicino settima edizione del premio nazionale Giuseppe Ganduscio una poesia per la pace indetto dall'associazione amici della terza età Auser di Ribera il premio volta a far conoscere la figura e l'opera del riberese Giuseppe Ganduscio autore di diversi testi interpretati dalla famosa cantautrice del sud Rosa Balistreri scomparsa negli anni 90 e diviso in quattro sezioni due in lingua italiana o siciliana a tema libero e due sempre in italiano e in siciliano a tema è possibile presentare non più di due produzioni entro il prossimo 31 dicembre e siamo allo sport calcio quarta vittoria consecutiva dello sciacca che ha espugnato per 0 a 1 il comunale di Villa Franca Sicula tra Reale Unione e Nero Verdi un rigore sbagliato per parte Sacenzi ancora secondi dietro alla nuova sportiva del golfo in promozione il derby tra Ares Menfi e Atletico Ribere è terminato 3 a 0 con protagonista il bomber e Sacenzi Pasquale Galluzzo autore di una doppietta il servizio di Calogero parla piano 3 punti d'oro per lo sciacca SRLS che nel finale è riuscito ad espugnare il terreno di gioco del Real Unione di Villa Franca Sicula 0 a 1 il risultato finale grazie alla rete decisiva siglata al 95esimo in pieno recupero dal difensore Scoma al termine di un'azione da calcio d'angolo la partita è stata quella che tutti si aspettavano grande agonismo e rivalità tra le due formazioni e un calcio di rigore sbagliato per parte prima quello fallito da Venezia per i neroverdi e nel secondo tempo quello sbagliato da Rizzuto per i padroni di casa per la squadra di Mario Putaggio si tratta della quarta vittoria consecutiva risultato che permette ai Sacensi di restare nelle prime posizioni in scia alla capolista nuvo sportiva del golfo in seconda posizione insieme allo Sciacca c'è il Ribera 1954 che al Nino Novara ha superato per 2 a 0 il modesto Carini le reti sono state segnate nel secondo tempo da Bitetto e Greco Ferlisi dopo una prima frazione a vara di emozioni i Crispini si sono presentati in campo privi dei titolari Bilella Altomare D'Amico e senza Mister Salemi squalificato nel finale nonostante il successo in tasca i Riberesi hanno subito una doppia espulsione diretta a carico di BAU e Greco Farlisi questi gli altri risultati nel gironea di prima categoria Cini Silibertas Marsala 0 a 1 Don Bosco Partinico Giuliana 2 a 0 Fulgatore Empedoclina 5 a 0 Strasatti Altofonte 0 a 4 Nuovo Sportivo Balestrate 2 a 1 In testa Nuovo Sportivo con 19 punti Sciacca Ribera e Fulgatore 16 In promozione il derby agrigentino tra Ares Menfi e Atletico Ribera è stato stravinto dai padroni di casa per 3 a 0 grazie alla rete di Carelli e alla doppietta del centravanti seccense Galluzzo per lui sesto gol stagionale I menfitani hanno dominato in lungo e in largo vendicando l'eliminazione dalla Coppa Italia subita dai Crispini in avvio di stagione Per gli ospiti un passo indietro sul piano del gioco e qualche passo falso di troppo registrato negli ultimi turni del torneo questi gli altri risultati nel gironea di promozione Gattopardo Partini Caudace 0 a 0 Campobello Ravanusa 1 a 2 Canicattì Salemi 4 a 0 Casteltermini Castellammare 0 a 1 Cinque Torri Serra di Falco 1 a 1 Nuoasancis Libertas 3 a 1 Raffadali Camarat 3 a 1 Raffadali e Canicattì in testa con 22 punti Poi Ares Menfi e Libertas con 19 A seguire l'Atletico Libera con 17 punti Prima vittoria stagionale per il Volley Club Schacca che ha vinto in trasferta a Mazzara del Vallo Per la squadra di Enzo Graffeo l'obiettivo è quello di posizionarsi nelle zone alte della classifica di Serie C Seguiamo quest'altro servizio Prima vittoria stagionale per il Volley Club Schacca nel campionato di Serie C I seccensi hanno vinto in rimonta per 3 set ad 1 contro il Mazzara del Vallo Una partita tutto sommato equilibrata che il team seccense è riuscito a portare a casa dopo aver perso il primo parziale per 25 a 22 La squadra di Enzo Graffeo ha reagito e vinto i successivi 3 set per 17 a 25 13 a 25 e 19 a 25 dimostrando caparbietà e buone trame di gioco a parte il terzo set dunque parziali combattuti e spettacolo assicurato per chi ha assistito all'incontro grazie a questa vittoria in trasferta i seccensi hanno recuperato la sconfitta subita tra le Muramiche una settimana fa ad opera del Partinico l'obiettivo l'obiettivo per il sestetto di Graffeo è quello di poter ragguantare le alte posizioni della classifica e rimanerci si tratta di una squadra molto giovane che ovviamente deve crescere e fare esperienza ci vorrà pazienza e permettere alla società l'unica grigentina iscritta in un torneo pallavolistico di alto spessore di crescere le premesse comunque sono buone e i seccensi come già accaduto negli anni precedenti contano di poter disputare un torneo da protagonisti era l'ultimo servizio del nostro telegiornale io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni e vi do appuntamento